Adesso, no, va qui, sinistra, vai, eh, 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 adesso lo facciamo, giagorale avanti a destra, adesso lo facciamo, giagorale avanti a destra, eh, 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 adesso lo facciamo, giagorale avanti, bene, adesso facciamo con la mano, con un giro tempo orecchio, così, sì, sì, e avanti, Pronti di l'orecchia Eh 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 Mi piace Adesso lì facciamo Con dietro Mi apronti E dietro Eh 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 Adesso lì facciamo Io non so Quanto deve già Eh 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 non lo so Non lo so Non lo faccio 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 Grazie a tutti.